Con l'allarme del coronavirus che si sta diffondendo sono aumentati notevolmente i consumi, si parla di un più 20%, al mercato centrale di Firenze si parla di un più 30% addirittura, però rassicurano sia dal governo che ovviamente dal responsabile della grande distribuzione non mancheranno ovviamente le verdure e i beni di prima necessità. Pesa da coronavirus, c'è questa paura di fare la spesa? Più che altro non c'è più niente negli scaffali, la gente è terrorizzata. Cosa manca? Pasta, pasta? Candeggina, alcol etilico, guanti da lavoro, tutto. E chi fa la spesa normalmente non li trova. Ha fatto una spesa per paura del coronavirus? No, 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 giornaliera come sempre. Ma mancano delle cose negli scaffali? Mancano, mancano e come anche. Cosa? Mucchina o anche bene prima di tutto? Mucchina non se ne parla, proprio quella non c'è, ma anche mettiamo i detersivi, la candeggina, così non c'è più niente. Ha notato di scaffali vuoti? Qualche volta. Io abito a campi, a volte poi ci sono delle cose che non trovo a campi. Signore, buongiorno, una spesa da rifornimento per paura del virus o quotidiana? No, 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 quotidiana. Mancano dei prodotti? Ha notato qualche cosa? Sì, qualcosa, ma no di preciso. Non ho visto per bene quali prodotti mancavano, non ho letto. Non c'è questo allarmismo? Secondo me no, non lo vedo qui. Una mega spesa per paura del coronavirus? No, per ora no. Una spesa quotidiana? Normale. Mancano cose dagli scaffali? Abbastanza. Che tipo di... Pasta, riso, tonno, biscotti, insomma. Non sono proprio così nel panico, ecco. Mancano dei prodotti? Sì, tantissimi. Qualche tipo? Tipo pasta, riso, farine, farina proprio zero praticamente, latte, i prodotti principali diciamo. Avete fatto la scorta? Una piccola scorta. Piccola? Sì. C'è qualche prodotto che manca dentro la nuova? Farina, vero? Farina, sì, ma c'è diverse robe che manca ancora. Perché le gente, acqua, acqua. Alle 9 arriva a vuoto tutto, alle 9 di sera. Per oggi e domani è basta, non impazziamo. Mancano dei prodotti però avete notato qualcosa? No, scaffali vuoti, scaffali vuoti, vuoti, vuoti.